E a proposito di salute, rimaniamo in tema, lo facciamo con il nostro dottore nutrizionista Salvatore Cusenza che ci aiuta a capire come e perché la salute viene mangiando. Vi presento, sono il dottor Cusenza, specialista in scienza e alimentazione, ed oggi parleremo di alimentazione abbinata a patologie autoimmuni. Premetto prima una cosa, ormai a livello alimentare siamo arrivati quasi a definire per ogni patologia un tipo di alimentazione da abbinare. Esiste l'alimentazione per il paziente oncologico, per il paziente nefropatico, per il paziente diabetico, per il paziente sportivo, per il paziente che deve perdere pese, ma esiste anche l'alimentazione per i pazienti con patologie autoimmuni, che sono molto diffusi. Basti pensare alla psoriasi, l'artrite psoriasica, l'artrite reumatoide. Sono pazienti questi in cui il sistema immunitario si rivolta contro e fa danni, quindi si manifesta sotto molte forme e in questi casi bisogna non solo curare il paziente con dei farmici, ma curare il problema del paziente a monte e non a valle. Quindi l'alimentazione e la medicina funzionale ci hanno fatto scoprire negli ultimi 10-15 anni che andando ad eliminare dall'alimentazione di questi pazienti alcune sostanze che stimolano il sistema immunitario a rivoltarsi contro, il paziente può spegnere questa patologia riducendo al minimo l'utilizzo di farmici o addirittura in alcuni casi togliendoli del tutto. Faccio un piccolo esempio. Qualche mese fa venne un paziente in studio che aveva una forte psoriasi volgare, quindi la tipica psoriasi la più diffusa. Eliminando l'alimentazione, le caseine, l'istamina ed altre sostanze che creano il glutine, che creano sul sistema immunitario delle reazioni autoimmune, dopo un mese questo paziente aveva spento la psoriasi. Il paziente aveva la pelle pulitissima. Oltre all'alimentazione, ho aggiunto a questo paziente alti dosaggi di vitamina D, alti dosaggi di omega 3 e una buona dose giornaliere di magnesio, che insieme tra loro, più l'alimentazione povera di glutine, caseini, istamina, saponine e solanine, che sono delle sostanze che si trovano in alcuni alimenti, modulate insieme avevano spento il bottone della psoriasi. Quindi capite bene che ormai queste patologie possono essere tranquillamente curate non solo col farmaco, ma sì col farmaco, ma cambiando lo stile alimentare e lo stile di vita del paziente. Perché poi anche cercare di utilizzare alimenti biologici, si è visto che nel paziente non faceva altro che ridurre il rivoltarsi contro del sistema immunitario. Abbiamo anche osservato che utilizzando grani antichi, quindi il senatore Cappelli in primis, dove il glutine è una proteina contenuta nel grano, veniva ben riconosciuto dal sistema immunitario, dai villi intestinali del paziente. Mentre se si usavano grani moderni, quindi grani altamente modificati, che modificati per un semplice motivo, per rendere ai produttori di pasta, di pizza e quant'altro, una lavorazione migliore degli impasti perché il glutine dà elasticità alla materia prima. Allora rendeva facile il lavoro, ma al nostro intestino dava problemi, perché questi nuovi glutini non vengono riconosciuti dal sistema immunitario. E cosa fa il nostro corpo? Che è una macchina perfetta, va in tilt e inizia a manifestare problematiche da psoriasi associata ad altri alimenti, da gonfiore, irritazioni cutanee, irritabilità intestinale e tante altre problematiche. Quindi, nelle patologie autoimmuni, creare una pulizia alimentare, eliminare istamina, caseine, solanine, solanacee, dare grosse quantitativi di omega 3, circa 3 grammi al giorno, vitamina D circa 8.000-10.000 unità al giorno, e un dosaggio di un cucchiaino di magnesio al giorno, come dice il metodo Apollo, che è un metodo brevettato per questi tipi di patologie, non fa altro che migliorare la qualità di vita di questi pazienti. E ormai sono circa 10 anni che il metodo Apollo è stato riconosciuto da molti dermatologi e specialisti in scienza alimentazione, che collaborando insieme hanno risolto il problema a migliaia di persone in tutta l'Italia. E si sta sempre più andando avanti e si scopre sempre di più sull'alimentazione e medicina funzionale.